Sinistra vota contro gli agricoltori. Oggi, durante le votazioni per il bilancio del 2025, la sinistra compatta con Zingaretti, Moretti, Zahn, hanno votato contro quegli emendamenti che avrebbero dato più risorse ai viticoltori, agli olivocoltori e agli apicoltori. Questa è la realtà ed è questo quello che i cittadini devono sapere quando si recano alle urne, in modo tale che la loro scelta sia consapevole. E mi riferisco soprattutto ai cittadini Liguri, Umbri ed Emilia-Romagna, che presto saranno chiamati al suffragio.